Il convento francescano del Monte Mesma, un convento antichissimo, più di 400 anni, sbarca sul web, su internet, attraverso un sito. Tutto è nato da una serata insieme con il Rotary Club di Orta, San Giulio, e loro venendo a sapere che noi non avevamo un sito web, si sono proposti di fornirci questa possibilità. Subito eravamo un po' perplessi, ci siamo chiesti la necessità, l'utilità, e poi però ci siamo un po' confrontati con altri conventi che hanno già un sito web e ci siamo convinti dell'utilità di questo mezzo, per far conoscere il luogo, per pubblicizzare alcune nostre iniziative spirituali, conviviali. Cosa troviamo esattamente sul sito? Sul sito troviamo tutto quello che il Monte Mesma può offrire, sicuramente accoglienza, accoglienza per le comunità, per chi ha necessità di organizzare anche momenti di preghiera e momenti di formazione. Troviamo comunque la storia, tradotta attraverso immagini straordinarie di un fotografo e nostro socio, Walter Zerla, troviamo la storia del Monte Mesma, grazie anche al percorso che ha fatto Fiorella Mattiori Carcano. Ma il Monte Mesma che cosa rappresenta nel Cusio, e credo non solamente nel Cusio? Rappresenta una terra alta e come tale è altro e alto. In questo modo è una forma di attrattiva, di attrattività nel tempo. Poi in questo luogo si sono susseguite delle storie e una storia. Grazie. Grazie.